citando un verso isolato se ne moltiplica la forza attrattiva marcel proust citare a un continuo conversare con il passato per dare un contesto al presente citare e attingere alla biblioteca di babele citare e riflettere su quanto è già stato detto e se non lo facciamo parliamo in un vuoto dove non vè voce umana che possa risuonare alberto mangel l'esattezza delle citazioni è una virtù più rara di quel che si pensi pier bael la vita stessa è una citazione george luis borges